Sì, è già la seconda, ho fatto una gran parata al Tebrano, poi si è parita bene, ho detto ai gol invece è la zona della parata e ci riproveremo. Mi sa la chiesta, il pubblico la voleva, noi la volevamo, mi hanno risposto bene e bisogna continuare così. Adesso c'è questa sosta che non si capisce mai se va bene il Manno quando uno vince. Ecco questa sosta la prendiamo, sono dei giocatori un po' anche a cercare. Sì ecco può essere un'occasione per recuperare tutti, visto che c'era la recuperiamo, ci alleniamo bene, pronti per la prossima trasferta. C'è Dolby, si è procurato un taglio, gli daranno dei punti e per la settimana credo che recupera al 100%. c'è un taglio, la lotta c'è, tre punti comunque, per tante squadre la lotta, quindi è ancora tutto buono. Sì, c'è un bel gruppo, abbiamo detto che questo campionato si giocherà fino all'ultima partita, fino all'ultimo minuto e ce lo giocheremo così. Noi l'importante è rimanere aggrappati, infatti si parlava anche settimana un po' sui giornali, anche chi non li legge, un po' la voce l'è arrivata, che in casa abbiamo raccolto pochi punti rispetto alle partite fuori e oggi abbiamo un po' invertito la rotta, speriamo di continuare così, rimanere aggrappati al gruppo di testa e alla fine tirare i conti in finale.